Mi ha spinto la convinzione con cui il direttore mi ha cercato, nonostante venga da un infortunio, crede in me e questa è stata la cosa determinante. Prime parole in amaranto per Marco Cellini, attaccante classe 1981 che porta a servizio di Mr. Bellucci esperienza e gol. Il calciatore ha collezionato nel corso della sua carriera importanti esperienze tra Serie B e Serie C in piazze come Varese, Vicenza, Albino, Leffe, Spal e Livorno. Il centro avanti ha l'attivo 222 presenze e 63 gol in Serie B, 88 presenze e 45 gol nella terza serie nazionale. Il calciatore ha firmato un contratto di un anno ed è già al lavoro per recuperare dall'infortunio dello scorso gennaio. Ancora non sono a posto, abbiamo da lavorare sul ginocchio e poi sulla parte atletica, il tempo è un po' difficile stabilirli, io adesso per non rischiare niente vi direi ottobre. Infine ecco il punto di vista sulla prossima stagione di Cellini, un giocatore che nelle ultime tre annate è sempre andato in doppia cifra e che ha le idee chiare. Il mio obiettivo è quello di tornare a fare gol, non le presenze. A livello di squadra dobbiamo essere una squadra ambiziosa, avere ambizione e provare a stupire.